Il sinistra anticapitalista nasce non solo come organizzazione con una propensione nazionale ma con una possibilità reale di organizzare le forze in tutte le regioni del nostro paese e soprattutto di consolidare quelle che sono le sue presenze sociali all'interno del movimento dei lavoratori, all'interno dei movimenti e soprattutto passare da una fase che è stata una fase soprattutto di riaffermazione della volontà di costruire un'organizzazione a una fase in cui questa organizzazione si materializza concretamente in un lavoro che è articolato sul piano territoriale, articolato sul piano degli interventi sociali ma è anche centralizzato politicamente e nazionalmente senza il quale evidentemente non esiste un'organizzazione politica nazionale con vocazione nazionale e con interlocuzione con le altre forze. Noi abbiamo superato e dobbiamo soprattutto superare ancora in questa fase un doppio scoglio quello che peraltro ci fa essere qui perché da una parte noi non vogliamo essere vogliamo costruire un'organizzazione diversa da molte delle organizzazioni della sinistra che hanno un baricentro sostanziale in ultima analisi collegato a una vicenda, a un ruolo istituzionale e che qualche volta nonostante gli sforzi che parzialmente hanno fatto non riescono a uscire da quello che chiamerei il mondo del PD, il mondo del centro-sinistra col quale restano in un modo o nell'altro costantemente collegati. Ma dall'altra parte è anche una sfida per costruire un'organizzazione politica che non sia soltanto un intervento sociale o non sia soltanto una presenza ancorché positiva dentro i movimenti, certe volte peraltro dei compagni chiamano movimenti quel che sono assolutamente delle forme di attività politica positiva ma non sono movimenti di massa, sono movimenti di milieu di persone più o meno politicizzati e che in qualche modo questi compagni ci hanno detto e ci dicono ancora adesso questo esaurisce l'attività politica in attesa di tempi migliori in cui si potrà forse porre anche il problema della ricostruzione di un'organizzazione politica anticapitalista. Noi diciamo invece che l'organizzazione serve oggi, serve un'organizzazione anticapitalista oggi, serve un collettivo che in modo concreto, appassionato direi e soprattutto militante, coordinato agisca all'interno dei movimenti sociali, agisca all'interno dell'organizzazione sindacale dei movimenti della classe opera che più che mai hanno bisogno oggi di un apporto, di un sostegno, di un aiuto e un aiuto particolare l'hanno bisogno quelle correnti del sindacalismo di classe, le correnti del sindacalismo di classe che oggi rischiano di essere travolte da un'ondata conservatrice, addirittura reazionaria degli apparati, dei dirigenti delle grandi organizzazioni sindacali. Poi nel corso del dibattito lo affronteremo meglio ma siamo dentro una battaglia per mantenere nel nostro paese un sindacalismo militante e di classe di fronte a un'offensiva senza precedente delle forze della borghesia del padronato e vogliamo essere anche un'organizzazione politica che agisce sul piano complessivo, a tutto campo, fa politica, interloquisce con altre forze che magari non ci piacciono, con cui polemizziamo molte volte ma con cui proviamo anche a costruire delle resistenze sociali insieme, delle manifestazioni, dei movimenti con cui dobbiamo inevitabilmente discutere e vogliamo anche essere un'organizzazione politica che costruisce un ponte tra il passato e il presente. Nella lotta di classe non ci sono le pagine bianche che si ricomincia da zero, c'è il passato molte volte che pesa, le vecchie strutture che pesano, una dialettica pesante tra il passato e il nuovo da costruire. È inutile pensare di chiudersi in un recinto, noi dobbiamo contemporaneamente costruire il nuovo e nello stesso tempo dobbiamo sapere che ci confrontiamo ancora con forze pesanti che hanno egemonia all'interno della società italiana, nel movimento dei lavoratori, con forze confuse che cercano anche delle alternative. Con tutti questi noi non possiamo non rapportarci in modi, con modalità diverse, ma in una discussione politica costante con la volontà chiara che noi vogliamo costruire un'organizzazione militante e rivoluzionaria, vogliamo costruire dei quadri per poter reggere in questa situazione, per andare controcorrente e che quindi serve l'attività, la militanza politica, l'iniziativa dei movimenti ma anche la formazione dei quadri, ma anche una consapevolezza che il percorso è veramente lungo, non perché aspettiamo qualcosa che verrà, ma perché nella nostra iniziativa di oggi costruiamo oggi anche l'attività di domani e le possibilità di domani. Ed è proprio per questo che questa assemblea è un po' diversa da altre occasioni o altri convegni eccetera. Noi abbiamo costruito questa assemblea con molte interlocuzioni, sulle interlocuzioni italiane credo che le abbiate ben presente, le interlocuzioni italiane sono quelle del sindacalismo di classe rappresentato dalla rete 28 aprile della CGL, il compagno Sergio Bellavita qui la rappresenterà a pieno, abbiamo Cosimo Scarinzi che è il compagno del coordinamento nazionale che arriverà domani della CUB che a sua volta rappresenta un pezzo importante del sindacalismo di base e quindi avremo una presenza nazionale di questa organizzazione sindacale e avremo Nazareno Festuccia che magari questo nome è meno conosciuto di altri nomi ma è uno dei principali dirigenti della unione sindacale di base con cui da tempo anche intratteniamo rapporti importanti e quindi noi in primo luogo andiamo un messaggio che è un messaggio doppio, è estremamente positivo questa interlocuzione che queste attività, questi militanti e queste correnti sindacali si rapportino oggi alla nostra organizzazione che è fortemente impegnata per rafforzare l'attività di queste organizzazioni e nello stesso tempo per noi ovviamente è fondamentale oggi essere in relazione politica in relazione sociale con queste forze sociali e sindacali. Poi saranno presenti come forze politiche qui da una parte i compagni di rifondazione con cui come ho detto continuiamo a polemizzare molte volte tutti i giorni ma che è una forza che al suo interno militanti appassionati e anche importanti che hanno anche dei ruoli con cui noi pensiamo occorra continuare un dialogo e una discussione pur nelle divergenze. Credo che verrà il compagno Russo Spena, almeno così era annunciato ieri, poi abbiamo il compagno Sergio Carraro della Rete dei Comunisti e infine il compagno Giorgio Cremaschi che è il sindacalista più noto ma che qui verrà in veste non di sindacalista ma in veste di esponente del movimento anticapitalista e libertario rossa che è esattamente l'esperimento, il tentativo che noi facciamo insieme ad altre forze politiche sindacali e sociali di superare l'estrema frammentazione delle forze anticapitaliste nel nostro paese e di costruire un quadro comune di iniziativa politica e di attività. Quindi noi poi, questo sarà il compito della relazione, spiegare perché noi combiniamo nella prossima fase con estrema determinazione la costruzione di sinistra anticapitalista e nello stesso tempo siamo totalmente aperti a partecipare alle nuove esperienze perché da questo pensiamo possa effettivamente uscire una condizione migliore per l'insieme della sinistra, intendendo la sinistra che si pone non la sinistra di governo o la sinistra subalterna a quella sinistra che sta al governo ma quella sinistra che si vuole esattamente alternativa realmente dal punto di vista politico e sociale. Ho lasciato per ultimo la nostra interlocuzione a livello internazionale perché i compagni che interverranno qui a questa assemblea militanti e organizzazioni politiche estere sono qualcosa di diverso di altri interventi che anche da noi sono stati fatti che abitualmente vengono fatti nei congressi delle forze della sinistra cioè un fiore all'occhiello, un rapporto diplomatico, una... mostrare che su scala internazionale si hanno dei rapporti degli interlocutori magari per le prossime elezioni europee o per altri passaggi. Noi abbiamo costruito con una serie di compagni e compagni delle organizzazioni già da alcuni mesi un rapporto di tipo diverso. Questa assemblea è costruita anche già dialogando e interagendo con loro in una discussione politica comune. E questa è la diversità, questa è la profonda diversità e quindi io vorrei ringraziare profondamente tutte queste compagni e compagni che sono qui, con cui abbiamo già fatto una riunione ieri sera e che diciamo così all'inizio di questa assemblea finché non arrivano giù gli altri sono una minoranza importante che potrebbe quasi diciamo proporsi di prendere la maggioranza se non arrivano altri compagni. No, in particolare io vorrei ringraziare il compagno Antonis Navatellos che è un dirigente di Sirizza ma soprattutto della sinistra di Sirizza, un compagno con un ruolo nazionale estremamente importante. Pensate, con tutte le cose che succedono in questi giorni in Grecia, lui ha scelto di stare qui proprio perché si pone da un punto di vista di capire quel che è la discussione politica nel nostro paese e ci porterà il contributo della loro elaborazione e delle loro esperienze perché quel che succede là riguarda anche noi e quel che succede qua riguarda assolutamente anche i compagni e le compagni greche. Potremmo dire un po' quel che succede in quel paese è il futuro di quel che potrà succedere anche in Italia e noi abbiamo l'assoluta necessità di ragionare insieme per analizzare la situazione ma soprattutto per indicare i percorsi, per capire i percorsi necessari sociali, le posizioni politiche, le indicazioni, i lavori da costruire. Davvero un grande ringraziamento al compagno Antonis che è qui con noi. Abbiamo una folta delegazione del paese capitalista per eccellenza della Germania e l'abbiamo voluta questa delegazione di cui in primo luogo la compagna Angela Klein della redazione di SOZ e poi c'è il compagno Manuel, la compagna Frank, il compagno Tino Plancherel, il compagno Martin Sukane e la compagna Svenja Huck. Scusate la mia pessima pronuncia, non ho mai praticato purtroppo questa lingua anche le molte altre peraltro. Proprio perché qui in Italia c'è la Germania, noi diciamo la Germania non è tutti insieme, proletari e capitalisti tutti insieme, il capitalismo tedesco ma c'è una classe lavoratrice tedesca a sua volta impegnata in un difficile contesto di lotta di classe e noi vogliamo capire esattamente meglio che cosa sta avvenendo, che cosa succede. Verrà poi il compagno francese domani, Léon Cremieux, che rappresenterà sia la direzione della Quarta Internazionale ma soprattutto l'NPA francese, che è anche un sindacalista importante del sindacato Sud Solidarité e quindi c'è anche questo approccio sociale sindacale attraverso cui potrà intervenire. Altri due compagni francesi sono già presenti della Commissione Internazionale dell'NPA, sono Jean Pujan e Georges Sardin e poi anche qui ringraziamo loro ma ringraziamo poi in particolare il compagno Ahmed Choky che viene addirittura dagli Stati Uniti che è il rappresentante della più forte organizzazione radicale negli Stati Uniti e quindi è un altro punto di vista, un'altra finestra, e che finestra quella da cui si guarda il mondo, quella del più grande capitalismo dell'impero americano. E infine un particolare ringraziamento credo che vada alle compagnie e ai compagni del Movimento per il Socialismo svizzero con cui da tempo noi manteniamo un rapporto che anche in questo difficile passaggio di quest'anno ci hanno dato un sostegno politico e materiale, diciamo morale direi, anche molto forte perché potessimo oggi essere qui. Quindi un particolare ringraziamento al compagno Pino Sergi del Ticino e al compagno Charles-André Udry che anche questa volta ha voluto portarsi il suo contributo particolarmente prezioso in questa nostra attività. Guardate, non è formale questa cosa qui, chi ha vissuto quest'anno sa che non so se ce l'avremmo fatta senza tutto questo aiuto politico e materiale. Quindi diciamo, non è solo dal cuore o non è solo un omaggio, è un elemento politico che qui deve essere assunto dalle compagnie e dai compagni. Dovrebbe arrivare, non so se è già arrivato poi anche, un giovane compagno esponente dell'ischierda anticapitalista dello Stato spagnolo, il compagno Riccardo Martinsantes che dovrebbe intervenire questo pomeriggio. Infine, diciamo, c'è un'altra delegazione di un'organizzazione svizzera, la GA, che ci ha chiesto di essere partita e di seguire la nostra conferenza che naturalmente è ben volentieri, abbiamo detto, diciamo, di essere presente. Credo che ci sia poi, però io mi sono perso a un certo punto, anche un'organizzazione si chiama Bandiera Rosso Italiana, piccola organizzazione, che aveva chiesto di essere presente, non so se poi è arrivata o meno. Io credo di aver finito, ho finito il mio compito, vedo che nel frattempo un po' alla volta le compagnie e i compagni arrivano per la relazione vera e propria, di questo sono contento. C'è un'agenda molto fitta tra oggi e domani, in questo c'è delle modifiche importanti che poi la Presidenza proporrà, uno in particolare, la sottolineo subito, che abbiamo deciso e vi proponiamo di assumere, visto quel che è successo in Grecia e quel che sta succedendo in Grecia, l'accelerazione politica e sociale, che un'intera sessione della conferenza sia dedicata alla situazione greca e allo scambio di elementi politici. Per cui domani sera, che avevamo previsto tre commissioni su tre paesi diversi, sarà invece completamente dedicata a un'interlocuzione politica, a una discussione col compagno Antonis, esattamente perché c'è la necessità di padroneggiare completamente quel che avviene in quel paese e di discutere insieme. I compagni e le compagnie degli altri paesi interverranno nel complesso del dibattito generale. Adesso io vi proporrei il compagno Francesco Locantore come Presidente, che a sua volta poi farà una proposta di presidenza più larga per poter gestire le tre giornate di lavoro. Veramente ancora un grande ringraziamento a tutte e tutti, perché noi dell'esecutivo ce l'abbiamo messa tutta, ma senza di voi, senza l'insieme dell'organizzazione, non potremmo andare avanti. Finora quello che abbiamo fatto era facile, adesso diventa più difficile, perché adesso si passa al lavoro vero e proprio di costruzione di un'organizzazione politica militante e rivoluzionaria. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.